eccoci qua ciao alessio buongiorno alessandro buongiorno a te come stai benissimo una bella giornata della merla esatto con la l si sono giornate sono giornate fredde in effetti anche se oggi almeno qua torino c'è il sole quindi va tutto molto bene dove sei di bello sono a milano giornata fredda e assoleggiata ma sono nell'ufficio per cui non ne approfitto più di tanto ok ok come giusto che sia tra l'altro che faccia fredda a milano allora abbiamo con noi alessio beverina e che ovviamente ringrazio insomma per aver accettato di insomma di essere intervistato insomma cercheremo di capire un po quello che è stato il suo percorso prima di diventare l'alessio beverina che c'è oggi qua con noi quindi non so se vuoi iniziare a raccontarmi magari un po quale è stato il tuo tipo di famiglia che avevi il tipo di istruzione quindi percorso di studi che che hai fatto che hai scelto assolutamente innanzitutto grazie per darmi la possibilità di spiegare un po la genesi dell'alessio di beverina di oggi che chiaramente come al solito è basata sull'alessio beverina di ieri io sono brianzolo di nascita e ci ho vissuto fino ai 24 anni essendo brianzolo come potete immaginare essendo la brianza un luogo in cui l'imprenditoria le piccole e medie imprese sono molto sviluppate sono sempre stato affiancato in questo piccolo mondo anche se la mia famiglia non era proprio quella di un imprenditore classico ma diciamo di quello di di manager di di grandi gruppi industriali dopo il liceo scientifico ho deciso di entrare al politecnico di milano dove mi sono laureato in cinque anni con il massimo dei voti in ingegneria chimica anche lo scientifico erico e di così e di secchione no non ero particolarmente secchione però essendo perché c'erano le materie lette letterarie che li abbassavano fondamentalmente la media per cui invece passando alle materie scientifiche pure sono riuscito a dare il meglio di me a sopperire assolutamente poi era lontano 1997 quando mi laurea dal politecnico e a quei tempi c'era l'obbligo di servizio militare che poteva essere in un certo senso evitato se una persona aveva la possibilità di trovare un contratto a tempo indeterminato all'estero prima di 24 anni ragione per la quale io come tanti altri miei colleghi abbiamo deciso di partire all'estero inizialmente dovevamo partire all'estero per un anno successivamente mentre eravamo all'estero è stato prolungato esteso a tre anni per cui io e molti di miei colleghi di ingegneria siamo rimasti all'estero chi in svizzera chi in germania chi in austria chi molti a dire la verità in finlandia perché andavano tutti a lavorare per la nokia siamo andati a lavorare all'estero nel mio caso particolare io al primo novembre del 1997 sei giorni prima della deadline del mio 24esimo anno di età sono partito in francia dove ho trovato un contratto in un autore di ricerca a grenoble a soli 400 chilometri da milano nel campo della chimica applicata al mondo dei semiconduttori ho lavorato una cosa semplice una cosa semplice ho lavorato per tre anni in un laboratorio di ricerca vestito di tutto punto per entrare in clean room cercando di ottimizzare un certo numero di processi a livello di ricerca per i futuri transistor che oggi sono prodotti perché vi sto parlando dei 45 nanometri piuttosto che 20 nanometri di nodo tecnologico nel mondo dei semiconduttori ho scritto articoli ho realizzato brevetti e dopo tre anni mi sono reso conto che era estremamente interessante a approfondire matematica però non mi permetteva di vedere quello che succedeva intorno per cui se io ero il dio su una tematica specifica in un processo molto specifico che rappresentava diciamo 10 step in una manufacturing process di un semiconduttore che ne contava più di 200 capisci che era il poco rispetto al tanto ragione per la quale ho deciso poi di andare a lavorare sempre nel mondo dei semiconduttori ma passare dalla r di rnd alla d di rnd quindi dal lato ricerca pura del laboratorio allo sviluppo e sono andato a lavorare nel leader europeo nel mondo dei semiconduttori che è una società italo francese chiamata st micro elettronix che era sempre nel bacino grenoblese che ho lavorato anche in st altri quattro anni facendo lo sviluppo a un certo punto avevo anche 20 persone che sono sotto di me e in questo tipo di attività mi sono reso conto che chiaramente le problematiche della ricerca erano estremamente differenti dalle problematiche di industrializzazione di un processo per portare sul mercato un prodotto con i crismi del prodotto con le caratteristiche del prodotto quindi che non devono prendere considerazione solamente le performance ma anche tutti gli altri aspetti che vanno dal tempo di produzione al costo legato ai diversi step quindi fondamentalmente già con un approccio imprenditoriale mettiamola così sì esatto devi capire che c'è un mondo e poi questo mondo ancora una volta e lì arrivo sulla terza fase della mia vita alla fine degli ulteriori quattro anni che diciamo che tre quattro anni sono un periodo in cui uno ha imparato è riuscito a dare avere delle idee quindi a amplificare le sue conoscenze dare un valore è un aiuto all'impresa che chi la o al laboratorio di ricerca in cui non lavora e poi successivamente o cresce o decide di fare altro io ancora una volta bloccato nel certo senso dal fatto che mi sentivo una piccola pedina all'interno di un grande gioco in cui ho visto lato processo industriale per la produzione di nuovi prodotti eccetera eccetera mi sono detto ok però una volta che c'è questo fantastico prodotto al contrario di quello che pensano tutti gli ingegneri non è che si venda si mette sullo scaffale tutti lo comprano per cui c'è tutta un'attività che è quella della finanza del marketing l'aspetto commerciale l'aspetto risorse umane eccetera eccetera che erano a me sconosciute e quindi decisi di fare a mie spese un mb le cose per del commercio del pari l'osp che c'è anche a torino andai a parigi mi feci un anno di esecutive mba per apprendere almeno sulla carta qualcosa che non avevo mai appreso al politecnico di milano grossa deficienza ai tempi dell'educazione italiana cosa che credo che negli ultimi anni sia migliorata per imparare tutte queste tematiche uscito dalla mba o come io alla base comunque sono un geek se mi permette il termine adoro la tecnologia amo l'innovazione eccetera eccetera trovai lavoro nel technology transfer office del più grosso laboratorio francese che era il cnrs che è l'equivalente del cnr italiano quando è l'obiettivo all'interno delle tecnologie transfer era quello di poter individuare lì si è entrato si è entrato tramite una sorta di job placement oppure si è entrato no ho fatto una hai applicato proposta ho applicato e sono riuscito vista che avevo forte competenze al lato dei semiconduttori e hardware in generale avere varie applicazioni e poi il fatto di avere un mba che mi permetteva di non solo guardare gli aspetti tecnici ma tutto il resto lì l'obiettivo era quello di identificare brevetti o tecnologie dei laboratori di cerca francese e trasformarle in licenza ai grandi gruppi industriali francesi o internazionali o creazioni di una start up e guardavo tutti gli aspetti diciamo nel mondo dell'hardware che poi in realtà io l'aspetto che conosco di più è fondamentale conoscere tutti quegli aspetti lì nel senso che è vero che uno entra anche in una start up un po come eri tu no con una componente tecnica molto forte delle conoscenze tecniche molto forti però poi in realtà è utile no avere ampio raggio assolutamente assolutamente nel momento in cui tu soprattutto quando vai a identificare delle tecnologie ancora a uno stadio di sviluppo molto prematuro bisogna riuscire a capire se il brevetto è forte se l'applicazione è importante se il mercato che ne consegue è interessante se il numero dei competitor eccetera eccetera come si vende come si vende eccetera qui lavorando lì dopo sei mesi ebbi la fortuna di incontrare un venture capital che stava facendo la spin off di la creazione di una società proprio dal cnrs io ero all'atto chiaramente tecnologie transfer quindi in protezione diciamo dei brevetti della tecnologia per uscire dal laboratorio e dall'altra parte del tavolo in negoziazione avevo il venture capitalist quindi ho imparato anche a fare l'aspetto di negoziazione sulle licenze eccetera eccetera ma soprattutto alla fine di questi mesi di negoziazione di discussione con ben cercate il ben cercati stanno ha guardato negli occhi ma detto ma cosa fai qui in una società para pubblica viene a lavorare con me che è molto più divertente il re che guarda bene è andata relativamente bene per cui senza grossi problemi ho dato le dimissioni hanno iniziato a lavorare era il famoso giugno del 2005 il soffinova partners che ai tempi era il più grosso fondo di venture capital francese che aveva chiuso il deal col vc e ho chiuso il deal col vc molto molto contento dal mio punto di vista bene sono entrato come analyst all'età di 33 anni ok questo voglio sottolineare perché molto spesso soprattutto i giovani che vogliono entrare nel mondo del venture capital hanno una voglia di crescere rapidamente non accettano magari di entrare umili eccetera eccetera io ero dopo sette anni di esperienza industriale e un mba e qualche diciamo sei mesi in un'altra società un lavoro di analista ok per un salario con un salario corretto però il discorso era giusto entrare per imparare il mestiere all'interno di soffinova che è anche perché ci sono dei tempi tecnici non per raggiungere determinati obiettivi soprattutto se uno vuole se a uno ha degli obiettivi tarati molto in alto per se stesso ci sono dei tempi tecnici che sono tempi di studio prima di tutto tempi di apprendimento per fare la gavetta da qualche parte e poi sono tante gavette perché poi sai uno fa la gavetta e bisogna crescere quindi sai ogni volta che uno alza un po l'asticella ogni volta che uno arriva a break even della propria vita in realtà questo break even si sposta un po e quindi è sempre un fare sempre gavetta sempre tutti i giorni tutte le volte imparare imparare e ancora imparare assolutamente ci sta quindi io entro in soffinova è molto importante sottolineare che ai quei tempi soffinova era il più grosso fondo francese di venture capital era in gestione un fondo di 480 milioni nel 2005 che faceva investimenti di puramente generalisti per cui aveva un forte team di biotech mette che aveva un forte team di hardware software e quant'altro chiaramente io essendo un geek e la mia esperienza sarà nell'hardware mi hanno messo al lavoro su tutte quelle che sono le tecnologie legate al mondo dell'hardware per cui faccio tantissimi lavori di dirige molti sugli aspetti tecnici gli aspetti di mercato e imparo tutti gli altri aspetti di cui avevo sentito parlare durante l'emba e quindi facendo il mio lavoro allo stesso tempo mi leggevo poi 300 business plan l'anno e riuscivo ad entrare nel dettaglio dal punto di vista tecnico soprattutto al giorno uno al giorno si 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 una cosa poi la tara si era come che sai se lavora 200 giorni all'anno per cui diciamo che sono due giochi di più la cosa la cosa divertente che aveva una forte capacità di aprire il cervello e poter parlare di silicio per i semiconduttori fotovoltaico batteria e quant'altro di tutto e di più saltavo di palle in frasca con testo tecnologico e potevo dialogare facilmente a causa del mio background industriale e ricercatore con il ricercatore o con l'imprenditore che aveva un background di ricerca per cui ho detto molto spesso no a per motivi puramente di fattibilità tecnica o di timing per la fattibilità tecnica e in alcuni casi abbiamo detto di sì posso dirti che credo che il primo investimento su cui ho lavorato che è andato relativamente bene era una società che si chiamava i tempi inside secure che ha inventato il nirfi communication il chipset che oggi viene utilizzato ovunque per fare i pagamenti e per fare il trasferimento di immagine quant'altro società francese una seconda società sempre nel mondo dei semiconduttori era una società che ai tempi si chiamava upec che aveva inventato il fingerprint sensor che oggi avete su tutti i telefonini della apple perché questa società è stata sicuramente acquisita dalla apple per cui l'avamo venduta per 400 e passa milioni alla apple crescendo ho imparato anche tutti gli aspetti legali come fare una documentazione legale c'è il holder agreement e quant'altro e ho iniziato a seguire i miei partner del tempo di soffinova i consigli di amministrazione molto spesso in silenzio e poco a poco dando un po di aiuti di supporto ai miei partner nelle fasi di costruzione da leggersi passato da leggerti i bp a leggerti poi tutti gli agreement contratti esatto partecipare consigli e amministrazione cercare di supportare il mio partner o l'imprenditore in alcune scelte o analisi di mercato quant'altro sono cresciuto ho imparato tanto tant'è che mi fanno subito dopo un anno associate dopo un altro mezzo mi fanno principal e poi mi dicono puoi iniziare a divertirti da solo fantastico sei arrivato a 36 37 36 37 anni vedi che i conti mi sono fatti più o meno giusti quindi arrivo mi faccio i miei primi investimenti mi nomino addirittura partner dicendomi è il tempo nel 2008 2009 c'era una prima ondata di interesse per il mondo della sustainability o clean tech siccome molto era legata il mondo hardware mi dicono alessio guarda te se c'è qualcosa su cui investire ti diamo la possibilità di investire quindi di farla riguarda viti il flow guardavo di flow e facevo nell'ambito cliente quindi energy water environment eccetera eccetera cercavo tecnologie che potevano essere interessanti come soffinova col mio nome e poi essere io a consiglio amministrazione delle società ne avevo fatte due una che si chiama maxi che oggi è quotate vale più o meno 500 milioni post bolla durante la bolla del 2021 22 va a sanco un miliardo società che si occupa dell'elettrolis dell'idrogeno che molto di attualità in questo momento è una seconda società che si chiama le media nel campo dei led per le applicazioni display o altro luce eccetera eccetera a partire dalla tecnologia silicio questa società è ancora viva ha raccolto credo ad oggi più o meno 400 milioni e ha come finanziatori intel ikea vale e molti clienti di cui non posso dire come 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 vi gestito in che fase di subentrato ho fatto i primi in entrambi i casi erano piccole società di sei persone ok facevano avevano un prototipino ok quindi sono molto gentile quando parlo di prototipino li hai annusati subito l'ho aiuta l'hanno usati l'ho aiutato a fare la costruzione del team l'ho aiutato a costruire un business plan che fosse interessante per poter cercare successivamente i capitali necessari tanto è vero che mcfile ha fatto series a series b poi avevamo fatto l'ipo tra l'altro molto divertente e interessante anche dal punto di vista e nel secondo caso ho fatto la siria 6 series b e ho partecipato alla serie si e poi sono ho lasciato su sinuo per cui fondamentalmente quello che sto dicendo se dovessi riassumere fino adesso ho fatto il laboratorio ho lavorato nel mondo della ricerca ho visto l'industrializzazione della ricerca che facevo precedentemente mi seguito nel mba sono andata a lavorare per un bc e sono diventato entrato dopo tre quattro anni di gavetta facendo l'analista l'assos e quant'altro quindi tantissimo lavoro tantissime letture tantissima conoscenza per capire il mercato e diverse tecnologie fino a diventare partner e quindi gestire le società anche perché credo che so finora apprezzato non solamente l'aspetto tecnico ma l'aspetto a 360 perché un venture capital deve non solo capire di tecnologia non solo avere un bellissimo network ma deve riuscire anche a dare il supporto necessario nelle società per crescere in maniera adeguata all'età di 40 anni contentissimi soffinova eccetera eccetera però avendo soffinova deciso di dedicarsi solamente al mondo delle scienze della vita ho deciso di buonissimi termini di lasciare con l'aiuto anche di soffinova ho iniziato a riflettere all'agio di un fondo e avevo visto nel 2014 una grossa opportunità sul mercato italiano legata al fatto che da un lato non c'erano venture capital se non un paio e il secondo luogo visto che la ricerca era molto molto importante e in terzo luogo visto che gli italiani a livello imprenditoriale livello di tecnologie non hanno niente da invidiare a nessuno dal mio punto assolutamente per cui incontro in che anni siamo 2014 ok ok calcola che erano gli anni in cui fondi italiani di investimento oggi cdp aveva iniziato a creare nuovi fondi di venture se in quegli anni 2012-2013 sono nati p101 sono maicione adventure in cui il lavoro di fondo italiano era stato quello di unire due personalità che avevano un progetto di lanciare un fondo di venture e quindi invece di avere una personalità con forte esperienza ne mettevano due assieme per lanciare il fondo bencio se è stato il caso di united con magrini e jesus è stato il caso di p101 con di camillo e don vito ed è stata esattamente la stessa cosa che è successa poi con me perché fondo italiano che parlava con me parlava allo stesso tempo con il mio socio fabrizio landi che lui veniva da un'esperienza imprenditoriale essendo stato il ceo di una grossa società di imaging italiana nel medicale che si chiama esaote ci annusiamo ci incontriamo ci piacciamo e decidiamo di lanciare insieme questo fondo all'inizio del 2015 facciamo entrare nel nostro per erano anche tempi in in cui iniziano a nascere insomma le start up in italia nel senso che iniziava ad essere un argomento la start up in italia sì ma è molto se tu guardi si raccoglievano ai tempi intorno ai 150 200 milioni euro l'anno che è noccioline ti ricordo che quando entra in soffinova nel 2005 e la francia girano intorno e 400 500 milioni l'anno investita non i 12 miliardi di oggi se stesse a cui mi sono ritrovato un po come nel 2005 in italia con un'opportunità di mercato quindi io e fabrizio decidiamo di lanciarsi facciamo il fundraising facciamo entrare una terza socia di anna saraceni che era stata una delle fondatrici di 360 capital partner insieme a fasso e boni c'era dedicata lei al mondo del mette e quindi decidiamo di lanciare panacast per cui da buoni imprenditori investiamo due anni della nostra vita senza salario investiamo dei soldi non piccoli per lanciare la creazione della sgr anche dell'autorizzazione banca d'italia e a farci tutti i giri presso i potenziali investitori nel fondo e riusciamo a raccogliere un primo fondo panacast fund che è di 75 milioni di euro con uno scopo molto preciso che è quello di investire nel medical device perché il medical device rispetto a quello che facevo precedentemente è per diverse ragioni innanzitutto il mio socio fabrizio e la mia socia diana avevano una grossa esperienza di investimento nel medical device in 360 e come ceo di una società di immagine e in secondo luogo avevamo fatto un'analisi molto approfondita sul mercato italiano e ci eravamo resi conto che c'era una forte opportunità in terzo luogo c'è una componente hardware molto importante che è quello che io so fare e adoro e in terzo luogo però non è necessario arrivare fino a un prodotto messo sul mercato che dimostra una traction commerciale questo era il nostro concetto nel senso che molto spesso nel medicale medtech come succede anche nel baiot e le società vengono comprate ancora prima che entrino sul mercato ha delle valorizzazioni molto importanti perché perché medtronic bosso scientific philips g e tutti gli altri player hanno tanti soldi in banca e sono capacissimi di fare lo sviluppo commerciale quello che gli manca è avere nuovi prodotti che risolvono dei problemi di salute non riscontrati lanciamo il fondo costruiamo il team oggi con il fondo uno eravamo una piccola decina abbiamo assunto tre ingegneri dei politecniche di milano che ci potevano sopportare biomedici chiaramente che ci potevano supportare nell'analisi tecniche fondo uno e 75 milioni 75 milioni e abbiano tempo avete raccolti due anni e mezzo ok è un grosso lavoro è molto veloci il molto spesso diciamo che l'imprenditore o lo start up per non si rende conto di questo per il venture capital non è semplicemente andare a bussare le porte di casse depositi e prestiti e prendere i soldi iniziare a investire è un lavoro molto lungo di preparazione che nel mio caso ai tempi durò come tv due anni per avere 45 milioni altri sei mesi per arrivare a 75 per cui è un grosso lavoro in cui ancora una volta non mi sono pagato per due anni punto è un grosso è esattamente come il lavoro quando una start up va a fare il fundraising presso venture capitalist che cosa da me la grossa differenza è che noi come start up di venture capital non avevamo un prodotto o un mercato ok perché sai se ti dici c'è un prodotto x che risolve il problema z con proiezioni finanziarie è certo caso ti dico io sono bravo a fare questo dammi soldi ti dimostra che sono bravo vedrai vedrai che andrà tutto bene non è che andrà tutto bene lo stesso per cui poi come dicevo è stato fondamentale per noi costruire un team adeguato abbiamo fatto entrare un principal che aveva 25 anni del mondo del cardiovascolar che ha fatto entrare tre ingegneri biomedici che ci potevano sopportare in tutte le analisi tecniche e di mercato abbiamo fatto entrare un gruppo lato back office che ci supportava con tutte le documenti e reportistica per console banca d'italia per i nostri investitori per cui abbiamo costruito la macchina panache macchina panache che durante il primo fondo ha investito nei primi cinque anni 12 società di cui 7 all'estero e oggi potrei dire molto contentemente molto contento che sulle 12 società tutte le 12 sono ancora vive 8 o 10 su 12 hanno fatto aumenti di capitale successive la nostra entrata all'interno della compagine societaria ha delle valorizzazioni più elevate molte quasi tutte le società hanno raggiunto dei clinical delle maestro che possono essere cliniche regolatorie di prodotto molto importante per cui le società stanno andando avanti in maniera molto forte quindi in questo caso vuoi l'ingresso in che fase la fate avete una fase ideale oppure allora assolutamente sì con il fondo 1 abbiamo sempre investito più o meno 45 milioni di euro per società siamo partiti credo dalla cosa l'assegno più basso che aveva fatto era un 750 mila euro ok è il più grosso al primo giorno 4 milioni abbiamo investito tendenzialmente quasi sempre in sirisei però abbiamo fatto credo tre seed in cui abbiamo creato insieme al ricercatore o l'imprenditore delle società e crede che abbiamo fatto una series b però non è detto in maniera molto larga oggi se io guardo i capitali il calcolo che noi abbiamo investito in queste 12 società più o meno ad oggi un 50 60 milioni ok le nostre società hanno raccolto 350 milioni quindi in seguito all'intervento di panna che è sempre stato lì di investor anche quando facciamo gli investimenti all'estero abbiamo siamo riusciti non solo a portare insieme a noi durante il primo torno di primo round nelle società dei capitali ma nei round successivi siamo riusciti a portare molti più capitali per cui siamo riusciti a fare un leverage molto molto importante quindi grazie a fatto che abbiamo scelto bene siamo riusciti a convincere dei co investor investire di tanto a noi grazie al nostro lavoro chiaramente grazie al lavoro importantissimo e fondamentale dell'imprenditore e degli altri colleghi investitori siamo riusciti a traghettare le società nella direzione giusta per poter poi convincere altri investitori a investire per cui diciamo che le cose perché c'erano i risultati perché c'erano i risultati però ricordati una cosa molto particolare al contrario di quello che succede nel mondo del digital da noi si parla di fatturato no 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 credo che oggi nelle mie 12 società del fondo 1 2 sole fanno fatturato ma ti sto parlando di qualche milioncino di euro per puro caso il concetto è che il nostro obiettivo principale è dimostrare che siamo capaci di passare da un prototipo a un prodotto un prodotto che ha dei risultati clinici quindi un'efficacia e una safety sull'uomo di un certo livello e in terzo luogo che la società ottiene gli approval regolatori si marco sda per poter essere immessi sul mercato e la crescita quella che conta per voi è la crescita ma non di fatturato è la crescita per milestone sì 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 esatto quindi sono le KPI raggiunte assolutamente ok voilà detto questo allora poi è arrivata la pandemia e chiaramente c'è stato un blocco come per tutti ma in realtà potrei dire che è stato un effetto anche benefico da un certo punto di vista no per le nostre società perché quando tu hai un prodotto che deve fare degli studi clinici molto problematici perché non sai bene se funziona o se crea dei problemi secondari sul paziente negli ospedali in cui i pronti soccorsi erano dedicati al covid non si è fermato però è stato molto utile perché noi nel 2020 avevamo deciso di partire con la raccolta del nostro secondo fondo e a causa del fatto che parlavamo di diagnostica, device, salute e siccome abbiamo aggiunto anche l'aspetto biotech nel secondo fondo abbiamo avuto la possibilità di recuperare molto interesse da parte di investitori il fondo 1 nel tanto tempo l'avete chiuso o è ancora il periodo il fondo era arrivato alla fine del periodo di investimento quindi non potevamo più fare nuovi investimenti c'è solo più periodo di disinvestimento c'è il periodo di investimento in cui in realtà c'è una grossa parte di fall on investment per cui c'è una series bio quant'altro chiaramente oggi noi siamo all'anno 7 del fondo le nostre società sono i capitali necessari per arrivare fino all'exit quindi fondo 2 che abbiamo denominato purple bel nome, mi piace quanto è profondo questo fondo? è più profondo del primo immagino abbiamo annunciato ad agosto del 2021 un primo closing a 150 milioni di euro ok ok prossimamente annunciamo il final closing però è estremamente importante complimenti grazie è assolutamente per me interessante sottolineare che a causa del fatto che abbiamo fatto un primo un ottimo lavoro sul primo fondo e sulle società scelte e come sono state seguite e in secondo luogo anche un po aiutati dall'effetto pandemia e in terzo luogo il fatto che abbiamo comunque allargato negli ultimi 5 anni tutta una serie di conoscenze con potenziali investitori di un futuro fondo siamo riusciti ad accogliere abbastanza rapidamente quindi in meno di un anno abbiamo raccolto i soldi per un first closing che ha raddoppiato la taglia del primo fondo con tutti gli investitori che avevano partecipato nel primo fondo che hanno reinvestito nel secondo fondo più quelli nuovi più quelli nuovi per cui abbiamo tutta quella vecchia più tutta la parte nuova assolutamente assolutamente per cui siamo riusciti a portare a casa un nuovo fondo che abbiamo allargato l'aspetto biotecnologia quindi sviluppo di nuovi farmaci ragione per quale abbiamo assunto altre tre persone PhD e doctor di cui uno inglese che lavorava con me i tempi in Sofinova che si era ritrasferito a Cambridge in UK che era andato a lavorare per un fondo di corporate venture di una grossa casa farmaceutica giapponese Takeda ok per cui abbiamo costruito e abbiamo allargato il team oggi siamo in 13 e abbiamo realizzato da agosto dell'anno scorso tre investimenti due all'estero e uno in Italia e ne stiamo chiudendo ulteriori quattro di cui annunceremo nelle prossime settimane con le size se si può dire allora chiaramente essendo il fondo più grande abbiamo fatto SEED e Series A e Series B abbiamo investito credo la cosa più piccola sono un milione la cosa più grossa abbiamo investito 8 milioni ok per cui molto varia però sai questo è il concetto del venture molto spesso bisogna prendere in considerazione delle società ad alto rischio ad alto potenziale magari in fase prematura e da altre magari fare una Series A e Series B magari less risky ma still risky con magari delle valorizzazioni un po' più elevate abbiamo fatto di tutto e continueremo a fare di tutto chiaramente ancora come nel fondo 1 il nostro sit spot è una Series A ok in cui investiremo diciamo 8-10 milioni di euro per società e chi si occupa della due diligence o della due diligence che ci sarà sicuramente qualcuno di interno ma soprattutto della selezione del deal flow allora il mondo del nostro caso allora il deal flow diciamo che è costruito in maniera molto semplice essendo noi il solo attore italiano che si occupa di investimenti in medtech tutti gli imprenditori siccome siamo conosciuti vengono a bussare alla nostra porta sì ok siamo riusciti a creare un ottimo brand name anche facendo con investimenti con investitori all'estero nel settore per cui molti investimenti anche dall'estero arrivano in maniera automatica poi chiaramente partecipiamo a conferenze e in maniera molto importante facciamo degli studi verticali identificato una particolare problematica di salute e capito che c'è un potenziale di mercato molto importante andiamo a ricercare noi stessi tutte le società che in quell'ambito hanno una soluzione quindi nel caso diciamo più più comune quelli che sono i trend le cose che vanno in hype sì e no nel senso che dal nostro punto di vista tu parli con una società che ne so svizzera di una tematica ti rendi conto che la problematica è molto importante perché che ne so ci sono 250 milioni di pazienti affetti da questa patologia e non c'è nessun tipo di soluzione per questo tipo di paziente eccetera eccetera dice ah big big problem e queste durante il primo pitch con la società loro ti dicono questo è il nostro metodo tipo piacere o non piacere per risolvere questa patologia e ci sono i competitor x,y,z allora dice la prima cosa che fai dice andiamo a vedere x,y,z poi x te ne dice altri 4, z te ne dice altri 3 e y te ne dice altri 2 ma io ti posso dire che per esempio in un investimento senza dare nome e cognomi abbiamo visto è esatto è nato proprio così abbiamo visto una società mi ricordo ancora israeliana con la problematica una soluzione una problematica abbiamo ricercato tutte le soluzioni mondiali abbiamo visto più o meno una ventina e alla fine abbiamo deciso di investire in una ok quindi speriamo di aver scelto quella buona ok però il discorso è che non solo si fa un lavoro di creazione del deal flow perché l'imprenditore che ha una start up ha bisogno dei capitali quindi al contrario di quello che succede nel mondo del private equity delle piccole e medie imprese o grandi imprese in cui bisogna convincere l'imprenditore a venderti la società nonostante faccio l'imbida positivo quant'altro nel campo del venture capital e start up hanno bisogno di soldi per cui vengono dai una società come Panakes siamo cresciuti da 200-300 deals l'anno a 1000 ok per cui ritorno sulla tua domanda una cosa è la creazione del deal flow oggi noi con il nostro brand name con tutte le attività collaterali che facciamo in incubatori visita di laboratori ricerche interne piuttosto che partecipazione a conferenze tematiche mediche portiamo a casa mille opportunità l'anno successivamente internamente abbiamo tutto un processo per cui il ogni partner ha in gestione ogni opportunità ok chiaramente aiutato da dal junior che partecipa alle call all'idv dirige se quant'altro però fondamentalmente c'è sempre un partner è vero che al contrario di quello che succede altrove in altri ferm noi oggi abbiamo un team di sei partner e quattro junior e non due partner e otto junior il lavoro lo fa il partner perché pensiamo che per scegliere al meglio una particolare società su cui investire le competenze del partner sono fondamentali per la comprensione anche perché non si fermano solo un'analisi di quelli che sono freddi numeri o freddi documenti tante volte uno deve sempre valutare insomma tanti aspetti che di chi sta presentando come lo sta presentando c'è tutto e ancora una volta avere la possibilità di identificare l'esperienza sai come ti dicevo nel 2005 quando iniziai io mi facevo due business plan al giorno e poi mi facevo la ricerca associata in modo tale che poi quando andavo di fronte all'imprenditore sapevo di cosa parlavo oggi forte di migliaia di business plan letti degli ultimi 20 anni un po' ci capisco eh sì sì direi di sì sa capire qual è subito il punto debito nella società non ci perdo più di tanto tempo e poi scome a noi internamente siamo suddivisi per tematiche diverse chi fa cardiovascolare, chi fa oncologia, chi fa respiratorio, chi fa imaging o quant'altro è qualcosa di importante ma torno su una cosa molto importante perché uno potrebbe dire che il prolessio non ha le competenze medtech o medicali verissimo sono assolutamente d'accordo eh mentre al contrario dei miei soci che hanno il PhD che ci hanno sono medical doctors che medical engineers eccetera eccetera ce l'hanno molti di più chiaramente poi se voi guardate attentamente in quali investimenti Alessio fa gli investimenti a suo nome anche all'interno di Panaches non ci allontaniamo molto da 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 quello che lui ama la prima società è una società che fa un device per la chirurgia che elimina il fumo ok che non è altro che una creazione di un campo elettrico cioè è un hardware, puro hardware e la seconda è un robot chirurgico e lì sei entrato personalmente anche? sono entrato come Panaches ok però sono io che ho portato ok all'interno di Panaches l'ho votato l'ho spinto l'ho aiutato a finanziarsi e queste società stanno crescendo molto bene hanno raccolto finanziamenti molto importanti o hanno fatto partnership con però ancora una volta il punto è quando si guarda bene Alessio per il momento ha fatto tecnologia hardware con un'applicazione medicale però è sempre quello che capisco io quando vado a vedere una società di robot entro nel dettaglio dal punto di vista tecnico chiaro poi devo capire dov'è l'applicazione ci sono i pazienti potenziali eccetera certo però è l'aspetto tecnico quello che mi seduce di più il TAM è sempre importante mettiamola così è fondamentale ok e come come Alessio ci sono investimenti che tu fai o che hai fatto a livello personale magari qualche investimento che esce un po' da quello che che è il tuo la tua componente tecnica quindi la tua allora diciamo la cosa assolutamente sì diciamo che nel 2018 ho iniziato a titolo personale a fare investimenti nel campo digital sì e ho un piccolo portafoglio di 7-8 società molto diverse tra di loro che vanno da da non so se posso dirle in realtà eh non lo so non ti dico devi dirmelo tu che vanno dai chatbot ok rimani vago rimani vago ok dai chatbot per i carattrezzi a la la a a a a un e-commerce a a la realtà virtuale al marketing automation ok alla alla ristorazione diverse cose però insomma molto vario ma fondamentalmente c'è un concetto molto di base nel momento in cui faccio business angel innanzitutto io mi innamoro dell'imprenditore certo e secondo me nel digitale l'imprenditore è molto più importante rispetto all'imprenditore nel campo medicale sì perché è è legato molto a un execution mindset sì per cui nel momento in cui vedo un imprenditore che mi piace e la sua idea che mi piace tanto e la sua idea ed è molto competente nella sua materia e trovo che ha un quid qualcosa in più oltre chiaramente ad avere un target market un'opportunità di mercato eccetera eccetera mi piace se io guardo i miei investimenti alcuni sono già uscito un paio sono già uscito vendendo il secondario ho entrato un fondo successivamente diciamo che secondo me è chiave nel campo digitale il team la capacità del buon uomo di fare fondamentale soprattutto la capacità di capire quanto l'imprenditore porterà a casa la pelle bene e ha la capacità di affrontare le difficoltà che gli si presenteranno assolutamente ma sai ti faccio l'esempio dell'ultimo investimento che ho proprio realizzato a dicembre è un ragazzino adesso spero che non mi senta di 25-26 anni vabbè ci sta dato lui dai che ha già creato una prima società poi l'ha rivenduta e con 4 lire ha portato quasi a un milione di fatturato e beh insomma ok in un campo secondo me estremamente competitive con una soluzione tecnologica veramente molto carina quando tu lo vedi ci fai una prima chiacchiera al telefono dici interessante poi lo rivedi ci passi invece di un'ora che era stata stabilita cioè le passi due ore e mezza e ti rendi conto che il tizio si ha dei dubbi e in terzo luogo ti manda ogni tanto dei messaggi ancora prima che tu investissi e ti fa dei ragionamenti molto intelligenti tu dici vabbè questo ragazzo ce la può fare e quindi magari un scippettino ce lo metto poi chiaramente altro parametro molto importante quando faccio questo tipo di investimenti a titolo personale chiamo gli amici o il network e in modo tale che facciamo un accordato molto più interessante eccetera eccetera questi imprenditori poi se sono intelligenti mi sfruttano ok nel senso che chiaramente essendo io un venture non ti fanno leggere vp vero si me lo fanno leggere e mi dicono perché non ti piace no perché non ti piace perché non investiresti domani o conosci tizio caro semprone all'estero ok io conosco tizio caro semprone anche nel mondo digitale all'estero mi sfruttano un sacco per avere la possibilità di parlare con i fondi tipicamente francesi piuttosto che inglesi con cui loro piacerebbe discutere per fare il secondo step di crescita per cui ancora una volta è un qualcosa di divertente che permette a me di aprire un po' il cervello rispetto a tutte le tematiche medicali che sono super interessanti che fanno sicuramente del bene che però a un certo punto se mi permetti la battuta iniziano ad essere un po' pesanti la forza di sentire parlare di alzheimer tumori problemi della prostata o quant'altro ogni tanto parlare di di marketing può essere un po' più interessante e ti apre un po' il cervello anche perché secondo me negli anni futuri ci sarà sempre di più un mix tra le diverse soluzioni anche nel mondo medicale per cui avere una comprensione di quello che succede negli altri mondi dal punto di vista digitale come fare una customer acquisition online eccetera eccetera diventerà sempre più importante anche nell'ambito per cui capire questo mondo grazie a questi miei investimenti personali è tutto interessante diciamo che anche l'ambito medicale sta capendo che c'è davvero un occhio di riguardo verso quella che è la customer experience mettiamola così e quindi si stanno aprendo tante porte nuove e nascono vedo stanno nascendo insomma diverse società che sono focalizzate su quello assolutamente ma se tu faccio un altro esempio oggi come oggi ma ormai oggi come oggi no ma da 4-5 anni tutto il mondo del digital healthcare che è il connubio tra software o soluzioni di artificial intelligence o quant'altro legate al mondo medicale stanno esplodendo particolarmente negli Stati Uniti però in Italia e in Europa ci sono tante soluzioni di questo genere quindi poter capire l'intelligenza come funziona come può essere applicata quali sono i business model potenziali che hanno funzionato magari in una SaaS company dedicata all'HR possono essere utili per vedere che una SaaS company nel mondo medicale può avere uno stesso tipo di traiettore certo assolutamente quindi diciamo che insomma fai di flow manager per gli amici poi in realtà nel lavoro devi per forza comunque mantenere un certo focus perché chiaramente il fondo ha quello come focus certo e quali sono invece quelli che sono un po' me l'hai già detto ma quelli che vedi trend di investimento che ci sono che magari ci saranno magari da qui a tre anni allora te ne dico tre o quattro nel settore medicale METEC io penso che tutto quello che è legato all'artificial intelligence per applicazione di lettura di immagini o per far sì che una molecola possa essere scelta a livello di discovery phase quando fai in maniera molto più veloce siano un trend assolutamente incredibile quindi artificial intelligence per imaging o per identificazione di molecole tutto quello che è companion device sarà assolutamente importante sia esso per fare del monitoring sia esso per fare semplicemente dare un'indicazione di quando un drug deve essere presa sarà qualcosa di fondamentale sempre di più ci sarà un'attenzione importante vista la mancanza di medici verso quello che è robotica chirurgica perché permette con un robot di fare operazioni per i quali ci vuole un super specialista e oggi super specialista non ce ne sono più in quarto luogo direi che c'è tutto quello che è legato allo nuovo sviluppo di nuovi farmaci a partire da gene therapy o antivirali che sicuramente saranno e continueranno a essere il futuro come ha dimostrato negli ultimi tre anni una piccola società che oggi si chiama Moderna che era iniziata con lo sviluppo di microRNA technology per oncology e può essere trovata a sviluppare un vaccino per il covid abbastanza conosciuta mettiamola così esattamente però ancora una volta il nostro questi sono i tipi di trend che noi vediamo tutti i giorni e che sono sicuramente molto importanti ottimo Alessio secondo me ci siamo detti un sacco di cose è stato Ti faccio un'ultima cosa Vai Vai Allora nel 2018-2019 io dopo dieci anni di venture capital in Francia e tre anni e passa il venture capital in Italia mi sono reso conto insieme a tutti gli altri colleghi che facevano venture capital che erano nati diciamo dal 2012 in poi che in Italia si doveva fare di più sul venture capital ed è la ragione per la quale insieme ad altri sei venture capital abbiamo creato un'associazione che si chiama Italian Tech Alliance ai tempi si chiamava BC Hub in cui cercavamo di mettere un po' un'associazione tra noi BC oggi l'associazione è incredibile sono oltre a fondatore ero fino a settimana scorsa anche al consiglio di amministrazione ma sono il segretario generale sempre questa associazione oggi ha quasi tutti credo il 95% dei venture capital o degli investitori in innovazione in Italia e ha oltre 200 start up che hanno raccolto finanziamenti dal venture capital questo è fondamentale perché ne parlo perché nel momento in cui io arrivo e voglio creare un ecosistema di venture capital in Italia voglio creare il mondo delle start up è fondamentale fare un po' di promozione di questo piccolissimo mondo ok chiaramente l'associazione vorrebbe essere come Confindustria domani però oggi rappresenta ancora dei pochi player ti parlo siamo 30-40 investitori sono 200 start up il nulla ok rispetto al mondo però è estremamente importante poter fare utilizzare l'associazione e le nostre forze per andare a convincere chi fa leggi a fare delle leggi che vanno nella nostra direzione investire in innovazione che vuol dire investire nel futuro del paese in nuovi tipi di lavori non magari finanziare l'Italia finanziare l'ILVA o spendere soldi su cose che sono del secolo scorso investiamo la massa in modo tale che poi assumiamo i laureati i PhD questi dipendenti hanno anche importanti parti delle società e quindi sono attivamente interessate al successo di una società e soprattutto creano un indotto molto importante perché per ogni lavoratore che non ha start up nel mio caso ne lavorano quattro all'esterno della società con consulenti di una si crea un ecosistema che poi se cresce bene va nella stessa direzione per cui nel 2018 creiamo questa oggi l'associazione è molto forte e siamo in diretto contatto con i diversi ministri MIS MEF università e ricerca per portare a casa tutta una serie di cambi legislativi che vanno nella direzione giusta un po' quello che è stato fatto in Francia tu capisci che io arrivo da lì e quindi non faccio altro che copie in peste di quello che è fatto altrove France Digital è stata creata nel 2012 ed è riuscita a portare sui tavoli dei diversi presidenti che hanno avuto da Hollande a Macron tutta una serie di tematiche e oggi la start-up è nelle parole di Macron un giorno sì un giorno no e da allora da quando è arrivato Macron grazie al lavoro dei venture capital e delle start-up francesi oggi le start-up francesi hanno un qualcosa che si chiama BPI France che è l'equivalente di Cassa Depositi e Prestiti Venture ma con 30 e passa miliardi da investire ok questo ha fatto sì che la Francia passa dai 400 500 milioni che si investivano nel 2005 quando iniziai in Francia ai 12 miliardi l'anno scorso l'anno ok quindi il nostro obiettivo ne voglio parlare in maniera molto importante perché fa parte di non me lo ordina il dottore di farlo però penso che sia estremamente importante far sì che in Italia si crea un ecosistema di start-up e di venture capital molto più grosso molto più importante perché da un lato gli imprenditori possono avere più risorse a cui andare a cercare e soprattutto andare a parlare con più VC se devono venire da Panacass che è il solo investitore che fa Medtech finito Panacass non c'è più nessuno è sbagliato ci devono essere 5 Panacass che investono nell'immunità come ce ne devono essere 10 nel digitale come ce ne devono essere 5 nel biotech eccetera ci dobbiamo costruire un ecosistema quindi la voce di questa associazione di cui sono segretario generale e fondatore va in questa direzione ottimo hai fatto bene a dirlo secondo me qualcuno se lo sta segnando e se lo andranno a guardare sicuramente secondo me è giusto quello che hai detto nel senso che ci deve essere cultura nell'investimento e nel fare aziende quindi bisogna sapere che c'è la possibilità di avere investimenti anche importanti da alcune strutture e alcune e ci devono essere chiaramente le alcune strutture che sono disposte a fare appunto selezione due diligence e hanno i capitali per poter supportare i buoni team le buone idee eccetera eccetera quindi sono assolutamente d'accordo con te buona Alessio mi ha fatto moltissimo piacere sei stato è stato molto interessante per me insomma scoprire un po' quello che è stato il tuo percorso fino ad oggi e avere il tuo punto di vista su quello che è e che sarà il mondo degli investimenti io ti ringrazio grazie a te speriamo di risentirci presto ciao Alessio volentieri Alessandro ciao 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 ciao